Fiume Freddo di Sicilia è uno dei comuni dell'Interland Ionico Etneo che ha visto partire già diversi anni fa la raccolta integrata dei rifiuti, accolta piuttosto bene dai cittadini che, a parte la confusione iniziale, hanno quasi sempre rispettato il calendario di conferimento. L'anno scorso una nuova fase ha visto la modifica delle modalità di raccolta differenziata al fine di facilitare ancora più il compito ai cittadini, eliminando la divisione per zone del paese ed uniformando i giorni di raccolta per tutta la cittadina. La ditta incaricata effettua regolarmente il servizio porta a porta, ai cittadini non resta che il compito della divisione per tipologia dei rifiuti. Nonostante ciò, la percentuale di raccolta rimane ferma al 30-35%, una percentuale mediamente buona ma non ancora sufficiente per colpa di chi non conferisce ancora correttamente. Contattato telefonicamente il sindaco di Fiumefreddo, Marco Alosi, si dice soddisfatto dell'andamento della differenziata. Pochi sono i comuni virtuosi come Fiumefreddo in cui funziona il porta a porta in maniera puntuale. Stiamo provvedendo ad incrementare i controlli e i verbali al fine di aumentare le percentuali di raccolta e a breve faremo partire anche una nuova campagna informativa. Il recupero viene effettuato secondo norma nelle stazioni di conferimento preposte. Il centro di raccolta funziona bene, continua il sindaco, anche se di fronte all'isola ecologica troviamo spesso tumuli di rifiuti, causa della cattiva educazione di pochi cittadini. A fine mese si avranno i dati precisi delle percentuali. Intanto abbiamo stipulato con riposto l'accordo per la CUC, la centrale unica di committenza. Adesso il progetto verrà mandato in gara. L'area individuata è sempre quella dell'attuale isola ecologica in via Maccarone a Fiumefreddo di Sicilia, che vedrà un ammodernamento. Spero, conclude il sindaco Losi, che i cittadini migliorino il livello della raccolta differenziata al fine di diminuire i costi di conferimento in discarica dell'indifferenziata e dunque i costi del servizio per l'intera cittadina.